Il gruppo sportivo Marina Militare continua ad arricchire il prestigio della Forza Armata attraverso i suoi protagonisti, marinai azzurri, che hanno ottenuto la vetta del podio nelle competizioni internazionali del 2018. Per gli eccezionali e prestigiosi risultati ottenuti nel settore del tiro al volo, specialità double trap agli europei di Leo Bersdorf in Austria, la Giunta Nazionale del CONI ha conferito due medaglie d'oro al valore atletico ai sottocapi Antonino Barillà e Alessandro Chianese. Onorificenze consegnate a Terni dal presidente del CONI Umbria durante l'annuale cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive della provincia. Si tratta di due atleti, due certezze per la Marina Militare promesse per il futuro dello sport del nostro paese, che con mentalità vincente rappresentano al meglio i colori italiani e le eccellenze del nostro paese nelle competizioni sportive di categoria. Grazie a tutti.